amici ma soprattutto nemici piangolieri buongiorno ragazzi buongiorno 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 io penso che molti di noi anzi molti di voi dovrebbero chiedere scusa ad antonio conte dovrebbero chiedere scusa nella maniera più totale per quello che fece nel 2014 quando si esonerò da lei venne perché lui già nel 2014 aveva capito quello che stava per accadere e poi quello che è accaduto in questo in questo purtroppo in questo lustro lustro di tempo le parole di john elkan certificano lo stato di praticamente di voler non cambiare di voler praticamente essere ciecati di fronte all'evidenza quindi ripeto di fronte a un sordo inutile urlare non ti ascolterà mai se uno se uno legge le ultime dichiarazioni di john elkan alla gazzetta viene veramente da farsi un giro in tangenziale nell'ora di punta attraversarla da destra a sinistra da sinistra a destra in continuazione fin quando veramente qualcuno non ti mette sotto e la fai finita con questo veramente con questo veramente lotta ai mulini al mai mulino a vento una lotta e molate questi sono contenti addirittura quello è con i modi della ferrari che mi dico soltanto questo parto dall'inizio parto da c'è scusate parte dalla fine è contento della ferrari che io la seguo non la seguo ma da quello che leggo la sta stanno buttando un mondiale per colpa di dei dirigenti che la che la ministra delle strategie di gara lui è contento contento di allegri ma allora perdonatemi perdonami io non ti voglio insultare anche a te perché perché veramente sono stanco ormai gli insulti ormai non le devo andare ad acquistare allegri anche gli insulti devo andare ad acquistare ma allora scusa perché con aveva e vinto con sarri hai vinto compirlo e le e le cacciate e le cacciate se sei contento di uno che non ti ha vinto un cazzo se sei contento di essere andato a parco dei principi ma hai fatto venti venticinque minuti di buono di una reazione di orgoglio ma tu il calcio lo capisci il calcio nel primo tempo ci hanno triturato nel primo tempo poi c'è stata una reazione ovvia ovvia da uomini da persone che hanno i testicoli che hanno lo scroto e i testicoli interni ovvio normale perché se seguivano il becca morto sarebbe stato un tritagano le senti le dichiarazioni del becca morto prima della partita lo ha sentito danilo quando gli dici ma perché dovevamo essere il pari fermi dove venire qua e fai farci del male chi ve le dice questo hai un minorato mentale come allenatore e tu sei contento vuol dire che c'è qualcosa c'è qualcosa oltre il calcio che va che che unisce queste tre persone questi tre soggetti non ci sono altri dubbi perché qui sì sì si annulla la partita meritocrazia quando c'è questo allegri agnelli el can c'è qualcosa che noi non sappiamo non ci sono altri dubbi perché essere contento significa intanto non spronare neanche il tuo il tuo becca morto in banchina se tu non lo sproni poi quando parli vorrei vedere l'avvenuto con tutti i suoi cavalli ma quali sono sempre questi cazzo di cavalli quali sono i cavalli di razza hai comprato uno scassato è scassato vero è scassato resta era scassato non è un cavallo di razza è scassato che ti prenda anche per il culo e lo devi pagare per restare infortunato e farsi bagno in banchina è scassato sono quattro anni che ha fatto schifo al manchester non è un cavallo di razza sei idiota più idiota di agnello di tuo cugino tu sei più idiota di tuo cugino tu sei più idiota sempre con questi cazzo di cavalli cavalli di razza ma quale cazzo di cavalli di razza parli di maria che c'ha 85 anni finisci a dire sempre queste puttanate finita di prendere per in giro la gente finita la vinceremo lo scudetto e si vinceremo lo scudetto altri 150 scudetti ma voi pensate che noi siamo cretini ripeto c'è una cosa che va oltre il calcio ragazzi mettiamoci le pietre la una 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 pietra sopra una pietra tombale perché ripeto questo non sarà mai giudicato per i suoi risultati perché chi ha vinto è stato cacciato e chi non ha vinto niente è stato lodato questo è il il rapporto che c'è tra presidente allenatore gli altri vengono giudicati con giudicato neanche con meritocrazia vengono discriminati discriminati per fare spazio a questo a questo personaggio che ripeto vive non lo so vive forse non lo so non lo so non sono non sono in grado di capire io posso capire soltanto che il calcio non fa schifo e ve lo posso dire e ve lo posso certificare lo vedete anche voi però per loro è tutto a posto benissimo tutta poi anche la ferrari a posto figuratevi che stai gettando mondiale quindi questi questi sono celebre resi oppure veramente c'è qualcosa che noi non sappiamo basta sono stanco veramente avvelito di ora l'allenatore della serenana che dichiarazione dovrebbe fare seguendo l'onda del mente gatto dobbiamo capire la nostra realtà non lo fa perché ora quello che vengono a scrivere se la giocano comunque ragazzi le parole sono la sulla gazzetta se vi volete fare quattro risate le andate a leggere perché veramente ripeto è una battaglia contro i mulini a vento noi in allenabile invincibile ma si ci ingazzate fino alla fine forse